Rispetto al debito, negli incontri con l'Anci, gli incontri che ha avuto ieri, lei ha avuto la sensazione che qualcosa si muove? Questa è una proposta sostenuta da l'Anci, da tutti i sindaci. Chiaramente le sofferenze principali c'erano i sindaci che hanno subito sulla propria pelle, sulla propria città, il peso più forte delle ingiustizie e le discriminazioni. È una lotta portata avanti in modo molto forte da noi, ma è una lotta portata avanti da Messina, da Catania, da Reggio Calabria, da Torino e da tantissime altre città. La proposta che noi abbiamo fatto, a differenza di altri che vanno certe volte in una logica quasi mercantile a chiedere quantità di denari, noi abbiamo fatto proposte molto ragionevoli, molto significative, molto utili, che sono normative, finanziarie di bilancio e il Presidente del Consiglio le ha ritenute ragionevoli. Ha istituito subito un tavolo, quindi se vuole la mia impressione, non è solo quella mia personale, che ci sono tutte le condizioni perché le nostre proposte, dove Napoli ha avuto un ruolo decisivo nella predisposizione di queste proposte, vengano accolte. Ovviamente i tempi anche qui sono molto rapidi, perché il Governo dentro il 21 ottobre, mi pare il 21 ottobre più o meno, quindi al giro delle quindicina di giorni, dovrebbe presentare le sue proposte. Poi c'è la fase del Parlamento, gli emendamenti, ma noi quello che abbiamo chiesto come Anci, che sia il Governo che faccia proprio queste proposte. Poi in sede parlamentare si possono ulteriormente migliorare, perché le proposte che abbiamo fatto sono davvero tante, però è il Governo che deve dare un segnale forte che noi ci attendiamo e nei prossimi giorni sono un'altra serie di incontri. Io sono stato anche al MEF, abbiamo fatto una serie di passaggi. Insomma Napoli sta avendo un ruolo importante, io lo sto facendo come Vicepresidente del Anci, innanzitutto chiaramente a livello istituzionale, poi come Sindaco di Napoli e della città metropolitana. La cosa bella è vedere che tutti i sindaci condividono le posizioni che abbiamo espressi in Anci, così come io condivido proposte che altri sindaci hanno avanzato. Questo è anche un messaggio di coesione che viene dato al Paese, un Paese diviso su tante cose che vede i sindaci uniti pur essendo espressioni di forze politiche molto differenti e questo l'ha colto il Presidente del Consiglio. Sarebbe un fatto molto grave se noi ci trovassimo una proposta del Governo senza risposte e credo che non è questo il risultato che si attende il Paese.